La riunione è finita diciamo come ce l'aspettavamo. Il gruppo non è fatto, si è deciso per attendere fino a settembre ma questa decisione è stata una decisione sofferta e non è detto che sia decisamente tutta. Potrebbe essere che da qua a settembre metteremo in piano su strada delle nuove azioni che ci siamo presi comunque qualche giorno di tempo per studiare e potrebbero far sì che l'azienda acceleri o perlomeno decida che il documento che ci verrà presentato a settembre contenga qualcosa che vada più a nostro futuro. Grazie